bello a tutti ragazzi e ragazzi bentornati in questo nuovissimo video sono sul nuovo divano che è quasi appena arrivato però questo non c'entra niente allora oggi farò una live una live dalle 3 alle 4 ma una live su cosa andate non lo so andate perché ho fatto un sondaggio su cosa farla quindi mi raccomando andate a votare così decidiamo assieme cosa fare e il sondaggio si chiuderà alle 2 e 47 così mi andava ciao